Il centro storico di Arezzo torna a tingersi di giallo. La 69esima edizione del mercatino dei ragazzi del Calcit andrà infatti in scena domenica 21 maggio. Siamo arrivati al primo mercatino dopo la pandemia, lo abbiamo fatto anche l'anno scorso, però quest'anno è effettivamente il primo mercatino, anche completato, abbiamo rifatto la medaglia che consegneremo a tutti i bambini alla sera, alla fine della giornata. A causa del maltempo era stata rimandata l'edizione 2023 in programma per domenica 13 maggio. L'organizzazione però non si è mai fermata e così, a distanza di una settimana, l'appuntamento è stato prontamente recuperato. Abbiamo, come l'anno scorso, comunque mantenuto il fatto di fare meno banchi. Comunque abbiamo 250 banchi che partono dalla stazione fino all'incrocio via Crispi per un chilometro e mezzo circa, perciò sarà comunque una bella presenza. Oltretutto quest'anno ho visto tra le iscrizioni che sono tornate diverse scuole, diverse famiglie con bambini. Il mercatino avrà inizio alle 8 di mattina e andrà avanti tutto il giorno. Il ricavato sarà destinato al sostegno delle cure domiciliari e oncologiche del servizio scudo.